Sono presidi importanti di democrazia, in una terra dove è complicato rivendicare pari opportunità, pari diritti rispetto ad altre parti del territorio. L'apertura di una sede della guilla è comunque un aiuto alle nostre persone, alla popolazione, alla gente che ha necessità di avere risposte certe, che spesso non sa a chi rivolgersi e quindi sa qui che può trovare un aiuto, una risposta, un sostegno per una vita diversa. Lo abbiamo ricordato oggi, un grande fratello che ha lavorato con noi per tanto tempo e ci ha insegnato tante cose. La sua immagine, il suo lavoro resterà in modo indissolubile nel nostro cuore. Siamo molto contenti che il segretario nazionale, ma in generale la UIL come famiglia, abbia voluto omaggiare mio padre in questa maniera. Insomma mio padre ha dedicato la vita letteralmente alla causa sindacale e quindi questo giorno per noi è veramente molto 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 bello. In qualche maniera ci fa, dopo tante lacrime, ci fa sorridere un pochino. Come figlia non mi sono mai sentita privata della sua presenza, ma anzi la sua esperienza sindacale mi ha arricchito tantissimo. Perché tramite le sue esperienze lavorative io vivevo, comunque io sono nata nella UIL si può dire, perché lui ha iniziato a lavorare quando io ero proprio piccolina. e quindi per me io lo ringrazio perché mi ha sempre arricchito, invece non mi ha tolto nulla. E avere mio padre così impegnato per una giusta causa che era sempre far valere i diritti dei lavoratori è stata sicuramente una cosa che mi servirà anche a me nel futuro. Grazie, grazie. Grazie.